Ciao, sono Stefano e faccio parte della famiglia Ecosch. La stipsi è un disturbo che riguarda tutte le età, dai più giovani ai più anziani. A causarla ci sono numerosi fattori, come ad esempio la scarsa idratazione, un'alimentazione non equilibrata, lo stress, ma anche fattori ormonali. Per far fronte alla stipsi ci sono tanti rimedi naturali che possono essere utili, ma il più efficace è sicuramente l'opsilio. Infatti l'opsilio contiene tante fibre che formano un gel che aiuta a dare consistenza e morbidezza al contenuto intestinale, favorendo anche l'evacuazione. Noi di Ecosch abbiamo creato Intestino Attivo, la formula che apporta ben 5 grammi di psilio per dosa giornaliera, a cui abbiamo aggiunto anche 4 estratti vegetali e i fermenti lattici probiotici per aiutare l'equilibrio della flora batterica intestinale. Il segreto per utilizzare il meglio intestino attivo è bere tanta acqua, almeno un litro e mezzo al giorno. Infatti l'acqua favorisce la formazione del gel di cui ti parlavo prima. Per qualunque domanda puoi contattarmi sui profili social oppure scrivi una mail a italia-equish.it. Ciao e alla prossima! Grazie per la visione! Grazie per la visione!